Purtroppo il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 caratterizzata in questo periodo dalla proclamazione della Toscana quale zona arancione per le prossime settimane fa sì che non sia possibile organizzare la 72esima edizione della Via Reggio K nel mese di marzo, le cui date erano state fissate dal 15 al 29. Stiamo valutando, ha sottordinato il Presidente del Centro Giovani Calciatori Via Reggio Alessandro Palagi, l'opportunità di riprogrammare la manifestazione nei mesi di giugno-settembre 2021. Sarà nostra cura informare tutte le società sulle nuove date il prima possibile. Si ricorderà che l'edizione che era in programma l'anno scorso era stata già posticipata a causa dell'emergenza sanitaria. La manifestazione è riservata ai giocatori nati dopo il 1 gennaio 2003. Inoltre ogni società potrà anche utilizzare 5 fuori quota nati nel 2002 e 5 prestiti non fuori quota. La speranza a questo punto dunque è che sia l'Italia che gli altri paesi riescano a superare l'attuale emergenza sanitaria in maniera tale che anche il mondo del calcio giovanile possa riprendere la sua normale attività e come è già capitato in altre circostanze, la Via Reggio K intende contribuire alla riportenza dello sport dopo questo triste e angoscioso periodo.